Io sono veramente arrabbiato con ANAS perché questo argomento torna tristemente alla ribalta ogni volta che c'è un incidente, un incidente grave. Però per noi è sempre stata la ribalta. Finalmente abbiamo ottenuto un successo, guardate qui, questo è un articolo che pubblicava un giornale quotidiano locale, gallerie, arriva il sorpassometro dopo una nostra ennesima sollecitazione. Peccato che questo articolo ha la data del 3 settembre 2011 e da allora non abbiamo mai smesso di scrivere alla Prefettura, all'ANAS, alla Regione, a tutti i soggetti interessati, senza però ottenere nulla. Nell'ultima lettera che ho qui, che è del 20 giugno 2017, con il numero di protocollo 21252 del Comune, rileviamo anche che dopo le gallerie e le piane c'è il tratto di illuminazione spenta ormai da un anno e mezzo, due anni e non si capisce come una società come ANAS e Seppiano riesca a fare una riparazione di un impianto o per fare una riparazione di un impianto ci metta due anni. Ma c'è di più. Abbiamo chiesto come Comune di intervenire noi direttamente. Ci dessero l'autorizzazione a installare un sorpassometro o un sistema tutor. Lo facciamo noi a nostre spese come Comune di Francavilla al mare ma c'è stata negata l'autorizzazione perché l'allora capo compartimento dell'ANAS ci disse no, ANAS fa le convenzioni con la Polizia Stradale e quindi lo faremo noi, stia tranquillo e fece uscire questo articolo che vi ho appena fatto vedere. Sei anni, altri due, tre incidenti mortali, incidenti continui, gallerie pericolose e non sappiamo più a quale santo rivolgerci per questa cosa. che qualcuno inizi a pagare per le sue responsabilità, ora basta. Io pretendo che ANAS intervenga domani mattina, non fra un anno, sei mesi, no. Domani mattina deve venire il capo compartimento ANAS a Francavilla, io lo accolgo e deve dirmi i tempi di intervento perché questa situazione non può andare oltre. Le gallerie tra l'altro sono vitali per Francavilla. Francavilla ha atteso anni che si aprissero queste nuove vie di comunicazione che tolgono traffico dal centro città. Senza quelle gallerie Francavilla diventerebbe immediatamente una città invivibile. Io devo dire che dei passi avanti sono stati fatti, piccoli passi avanti, sono state ristrutturate queste gallerie. Certo ci si è chiesto perché avessero bisogno di ristrutturazione a pochi anni dalla costruzione, tutto bene. ANAS ha ristrutturato e quindi qualcosina è stato fatto. Ora deve agire sulla sicurezza degli utenti.